ben ritrovati di nuovo su reviewing you oggi vi vado a mostrare questa pala da infornata per pizza o per il pane che ho acquistato su agli express ad un prezzo pensate di soli 22 euro inclusa la spedizione i tempi di consegna sono piuttosto rapidi diciamo che in 18 giorni l'ho ricevuta comunque dipende anche dalla zona di consegna vi vado a mostrare la panna in questione che arriva di tutto in questo cartone ea sua volta all'interno di una confezione di plastica abbiamo il manico il manico che devo dire rispetto ad altre pale che vendono anche su amazon e che costano davvero tanto a questa parte in silicone che vi protegge diciamo dalle scottature il manico in alluminio anodizzato e valore esistente come vedete anche spesso ci sono questi tre viti che vanno poi ad avvitarsi direttamente alla pala abbiamo un foglietto di istruzioni diciamo che ci consiglia di lavarla male di pulirla al primo utilizzo e poi la pala come vedete questi sono i fori in corrispondenza del quale si andrà a mettere il manico si andrà poi ad avvitare l'ho acquistata appunto forata per facilitare la fuoriuscita della farina quindi si evita che la farina rimanga nel forno e crei diciamo quella crosticina che fa sì che poi la pizza si va a bruciare e come vedete è veramente ben fatta anche visivamente si percepisce e anche spessa il giusto e c'è uno scalino che vi permette di prendere sulla pala la pizza anche quando l'andate a mettere nel forno fa da scivolo diciamo quindi magari così lo vedete meglio facilita sicuramente l'infornata e vi vado a dire subito le misure allora abbiamo un 30 centimetri ve lo mostro giusto per completezza però sono già andato a misurarla prima e poi un 39 centimetri come vedete il manico è di circa 24 centimetri quindi una volta attaccato avete comunque la distanza per andare ad informarla in un fornetto di casa anche un elettrico la vado a misurare comunque siamo solo col manico 34 centimetri però dovete calcolare questa parte che poi va ad inserirsi qua quindi devo dire che una pala veramente interessante a un prezzo eccezionale la consiglio link in descrizione del prodotto così potete acquistarla anche voi e devo dire che l'ho comprata perché in futuro vorrei acquistare il forno f1 così che posso appunto utilizzarla per infronare le pizza all'interno di questo forno e come misure dovrebbero appunto essere quelle ideali come dimensione e larghezza ecco la palla una volta montata come vedete è veramente bella visivamente e compatta e mi sono dimenticato di dirvi all'inizio che arriva anche insieme agli istruzioni questo cacciavite per andare ad avvitare direttamente il manico sulla palla stessa quindi davvero utile anche perché magari una persona può non avercelo a casa quindi è davvero interessante anche questo piccolo accessorio che fa anche la differenza alla prossima review se avete qualsiasi domanda non visitate a porbola link in descrizione del prodotto